Un vero e proprio boom di casi di influenza. Con le feste di Natale e Capodanno sono nettamente aumentati gli italiani costretti a letto per la malattia. In tanti si sono rivolti al pronto soccorso e le guardie mediche, ma il picco pare debba ancora arrivare. Nel periodo dal 20 dicembre al 3 gennaio 1785 si sono rivolti al pronto soccorso la Santissima Annunziata di Sassari, 449 i ricoveri. Nell'ultima settimana dell'anno in Sardegna è stato registrato un brusco aumento del numero di casi, con un livello di incidenza di 11,66 casi per 1000 assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è stata pari a 19,57 casi per 1000 assistiti. Nella fascia 5-14, 9,9. Nella fascia 15-64, 11-26 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni è stata pari a 6,77 casi. Nel periodo dal 20 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018 al pronto soccorso la Santissima Annunziata è stato registrato un numero di accessi pari a 1685 e di questi 449 si sono trasformati in ricovero. In questo periodo la media di ricovero giornaliera è stata pari a 30,8, superiore alla media giornaliera annua dell'intero 2017, che è stata pari a 29,3 ed ancora più alta di quella del 2016 pari a 28,7. Si tratta per la maggior parte di anziani con sindrome influenzale, problematiche cardiorespiratorie. Rispetto allo scorso anno si deve combattere con un'influenza più forte e con tempi più lunghi dello scorso anno, ma nell'isola conforta i numeri delle persone protette con i vaccini. Nella fascia di età oltre i 65 è cresciuto del 10% per arrivare a forse anche superare il 50% della popolazione a rischio.